Dobbiamo fargli complimenti perché abbiamo visto un secondo tempo davvero molto molto bello della Pescara, primo tempo dove avete forse un po' sofferto l'aggressività del Montevarchi, ma conti fatti tranne il palo avete concesso poco nulla. Abbiamo sciupato nel primo tempo qualcosina, l'impatto con la partita non è stato positivo, loro ci hanno aggredito, un paio di situazioni in uscita, errori banali che potevamo non fare, quindi l'impressione è stata quella, però poi piano piano anche nel primo tempo abbiamo alzato il baricentro, abbiamo cominciato a giocare, quanto una squadra era buona, quindi anche nel primo tempo che avevamo giusto in vantaggio era abbastanza meritato, però so che potevamo fare di più, poi nel secondo tempo l'abbiamo fatto, il problema è sperperare tutto quello che abbiamo sperperato, perché non esiste, ogni volta nel secondo tempo giocavamo a campo aperto, 3 contro 3, 3 contro 2, sbagliare ad usare il passaggio, sbagliare la scelta, mi sono arrabbiato tanto perché poi so che le partite, i risultati non si chiudono mai. Però Conti Fatti oggi è più contento delle altre volte? No, perché alcune cose le dobbiamo migliorare, ma quelle che ho detto prima, l'atteggiamento, le scelte di gioco, le scelte tecniche, essere più spietati, essere più cattivi, essere anche meno egoisti quando ci sono possibilità di chiudere, poi come squadra mano a mano nell'arco della partita siamo cresciuti, ma siamo all'inizio. Le scelte le faccio, una domanda sulla formazione, anzi due sulla formazione iniziale e una sul cambio in corso, intanto Rauti per De Marchi dall'inizio, cosa voleva con questo cambio e abbiamo visto la difesa tutta nuova, quella che un po' scherzavamo ieri in conferenza. Ma hanno fatto tutti bene, Rauti perché era la prima partita, non ci sono demeriti, fa delle scelte, tre partite in una settimana, ho il dovere di tenere in uno stato di allerta e di motivazione tutti all'interno di questo gruppo perché avremo bisogno di tutti, soltanto queste, perché so che cambi uno, cambi l'altro, possono cambiare le caratteristiche e certamente l'ANES è diverso da Cancellotti come difensore centrale perché ha un maggiore impatto fisico, ha un maggiore spessore, ma non è che chi non ha giocato, Zappella, Frascatori o De Marchi non hanno giocato per demerito, no, fanno delle scelte a volte in funzione della gara ma poi tutto si resetta e si ricomincia, quindi non è detto che sarà sempre così. L'ultima da parte mia, rapidissima, con il cambio, Zappella-Galano ha messo Zappella più alto rispetto al suo ruolo, che cosa chiedeva lì? Perché in quel momento loro da quella parte erano scoperti, infatti siamo andati tante volte a destra, il problema è poi dopo sbagliare, sbagliare l'assist, il passaggio facile al compagno, siamo andati tante volte perché in quel momento lì loro facevano fatica. Un flash per chiudere, una domanda al volo che giro ad Auteri. Sì, velocemente, non so se si è ispirato con quella sostituzione Zappella nel tridente d'attacco a Gasperini, ieri ha fatto la stessa cosa in Salernitana-Atalanta con Zappacosta, è una battuta naturalmente. Riferisco, fa una battuta simpatica Massimo se nel cambio di Zappella si è ispirato a Gasperini che ieri l'ha fatto con Zappacosta, quel campo. No, manco l'ho visto ieri la partita, quindi mi è venuto naturale perché io conosco i miei giocatori, sono le caratteristiche, in quel momento capivo che tipo di partita si stava sviluppando, ed era la cosa più normale e giusta fare.